salve a tutti e bentornati in un nuovo video oggi faremo dei tortelli di gamberoni con salsa alle noci un mix un po particolare ma che a me piace moltissimo la ricetta l'ho copiata da un ristorantino sperduto in cui sono stato anni fa ristorantino a cui fare volentieri pubblicità e se non fosse che ormai purtroppo ha chiuso dice ha chiuso sì guarda che ricette che faceva partiamo dai gamberoni visto che questa ricetta è per due persone ve ne serviranno 10 che corrispondono circa a 600 grammi se interi o a 250 grammi se già puliti in questo modo vi verranno una ventina di tortelloni che per due persone sono più che sufficienti quindi innanzitutto prendete i gamberoni e togliete la testa la corazza posteriore e le zampe per altri tipi di ricette tipo se dovete farli fritti potete anche lasciare la parte finale in modo che saranno più facili da prendere con le dita in questo caso però non ne abbiamo bisogno quindi la togliamo poi facciamo un incisione lungo il dorso apriamo e togliamo l'intestino ecco vedete non so voi ma io questo preferisco non mangiarlo tolto l'intestino potrebbe comunque essere rimasto un po di sporco quindi li prendete e li sciacquate sotto l'acqua corrente finito ora sono puliti e pronti per l'utilizzo se poi proprio non volete buttare niente come anche giusto che sia lo scarto lo fate bollire lo filtrate e lo potrete usare come acqua di cottura o come base per un risotto vedete voi se invece i gamberoni vi servono come ornamento per un piatto e quindi interi vi basterà prendere un paio di forbici incidere lungo il dorso ed estrarre l'intestino ecco qui sono pronti e puliti ultimissima cosa detto tra noi se magari vedete che i gamberoni costano troppo perché costano per il ripieno potete usare metà gamberoni e metà gamberetti tanto poi all'ospite ignotite dice ma che ci ha messo come ripieno e ripieno ci ho messo i gamberoni rossi dell'himalaya ho speso un sacco di sordi dice ma come dell'himalaya che ci stanno i gamberoni sull'himalaya che ne sei tu che parli che non capisci niente da pesce questa è marie monti lascia aperte passiamo adesso alla pasta all'uovo le proporzioni sono 100 g di farina per ogni uovo grande oggi però facciamo doppia porzione quindi usiamo 200 g di farina due uova e sale quanto basta come farina usate quella di semola io uso quella rimacinata perché essendo più fina permette di avere una pasta più omogenea quindi unite le uova alla farina aggiungete anche il sale e iniziate ad impastare impastate fino a che non diventa appunto una pasta infine la incartate in un po di pellicola e la mettete in frigo per un paio d'ore passiamo adesso alla salsa e quindi alla parte più fastidiosa di questa ricetta cioè la pulizia delle noci il problema delle noci è che sono un po amarognole cosa che per altre ricette va anche bene ma per questa decisamente no quindi io preferisco bollirle e poi sbucciarle il procedimento è questo prendete le noci e le sgusciate per bene fino a che non avrete 100 g di gherigli puliti mi raccomando se ne trovate una anche solo un po nera scartatela perché ne basta una per rovinarvi tutta la salsa a questo punto le fate bollire per 10 minuti dopodiché le scolate e le mettete su un panno e delicatamente le strofinate un po in modo che poi sarà più facile rimuovere la pellicina quindi armatevi di molta pazienza e iniziate a pulirle una ad una queste sono le noci pulite e queste invece sono tutte le pellicine che ho tolto come vedete non sono poche e proprio per questo in termini di sapore e soprattutto di amarezza fanno una gran differenza credetemi è meglio toglierle a questo punto prepariamo la salsa oltre ai 100 g di noci vi serviranno 40 g di pinoli 110 g di latte due cucchiai di olio extravergine d'oliva e sale quanto basta mettete tutti gli ingredienti nel tritatutto e tritate fino a che non diventa un composto unico come vedete così facendo la salsa viene bella cremosa sembra quasi una mousse e vi garantisco che è buonissima perché sa di noci ma al tempo stesso è veramente delicata anzi vi faccio anche vedere la salsa fatta con le noci non spellate è un'altra cosa no fidatevi che è più buona sarà anche noioso spellare le noci però il risultato è garantito ultima cosa a me piace che la salsa sia cremosa però se a voi piace più liquida o aggiungete più latte oppure alla fine prima di impiettarla aggiungete un po di acqua di cottura passiamo adesso al ripieno dei tortelli prendiamo un pentolino e ci mettiamo dentro un paio di patate piccole accendete il fuoco e portate a bollore viste le dimensioni in un quarto d'ora dovrebbero essere pronte però per essere sicuri prendetene una e infilzatela con uno stuzzicadenti se sentite che affonda in maniera regolare vuol dire che anche al centro è cotta in caso contrario invece vuol dire che deve cuocere ancora dopodiché le mettete in uno schiacciapatate e le passate come vedete potete tranquillamente metterle con tutta la buccia tanto rimane dentro se invece lo schiacciapatate non ce l'avete potete tranquillamente sbucciarle e poi schiacciarle con una forchetta è facile l'importante però è che non le tritate perché altrimenti vi viene una pappetta e per il ripieno non va bene torniamo adesso ai gamberoni allora nei tortelli o comunque nei ravioli in generale c'è chi li mette dentro grudi perché tanto poi cuoceranno durante la cottura della pasta io però preferisco non rischiare quindi li ripasso prima in padella così facendo potrò anche fargli un attimo insaporire visto che nella padella oltre all'olio metterò anche un po di aglio che secondo me per far insaporire i gamberoni o comunque il pesce in generale è perfetto mi raccomando però una cosa al volo è giusto un attimino fate un lato fate l'altro e li togliete come vedete infatti dentro non sono ancora completamente cotti e fateli sgocciolare per bene prima di toglierli perché altrimenti poi il ripieno sarà troppo umido l'olio invece lasciatelo da parte a questo punto prendiamo i gamberoni e li tritiamo aggiungete 70 grammi di patate unite il tutto aggiungete il sale e il ripieno è pronto torniamo alla pasta all'uovo mettete un po' di farina classica sul tavolo e iniziate a stenderla una volta fatte le strisce poi potete passarle nella macchinetta se invece la macchinetta non ce l'avete fate tutto col mattarello comunque il risultato deve essere questo a questo punto sta a voi se volete fare una cosa più semplice potete tranquillamente fare dei ravioli quindi mettete il ripieno lungo tutto la striscia aggiungete lo strato superiore e poi con un bicchiere fate gli stampi il risultato è garantito e risparmiate anche tempo io però oggi ho voglia di complicarmi la vita quindi faccio i tortelli quindi preparo dei quadratini poi ci metto dentro un po di ripieno dando già una forma triangolare in modo che poi durante la chiusura sarò agevolato e non siate avidi e fateli belli carichi sti tortelloni che è meglio pochi ma belli pieni che tanti ma mezzi vuoti poi prendete un angolo e lo unite con quello opposto fate uscire l'aria e chiudete per bene poi con un coltello o con una rotella tagliate i due bordi uno e due e poi fate così li mettete in verticale mettete il pollice qui sotto e piegate un lembo poi sempre tenendo l'indice al centro piegate anche l'altro lembo e li unite unite anche sotto li sistemate un po e il gioco è fatto ve lo faccio rivedere pollice sotto tac altro lembo tac li unite per bene chiudete anche sotto li sistemate un po e sono pronti a questo punto mettiamo l'acqua a bollire e nel frattempo mettiamo la salsa in padella mi raccomando però dovete solo scaldarla e non dovete cuocerla e come vi ho detto prima se la volete più liquida aggiungete un po di acqua di cottura nel frattempo mettiamo a cuocere i tortelli mentre i tortelli cuociono mettiamo a scaldare l'olio in cui prima abbiamo ripassato i gamberoni intanto possiamo impiattare la salsa veramente mi dispiace non poteve la fassa già però credetemi è veramente buona e delicata a questo punto scoliamo i tortelli e li ripassiamo un attimo nella padella dove prima abbiamo scottato i gamberoni e poi impiattate fine poi vabbè io dovendo fare il video ho cercato di fare una cosa un po più carina quindi al centro ho messo anche una noce e un ramettino di maggiorana che tra l'altro ci ho messo una vita a trovarla mi sa che è più facile trovare la marijuana che la maggiorana oggi come oggi la prossima volta vado a pian piazza mi sa che la trovo più facilmente che poi che fanno se fanno mancare un po di vinello bianco eh no il pesce si sente solo senza vino è peccato eh questo è il piatto finito rega veramente evito di stare qui a dirvi quanto è buono perché sarebbe inutile certe cose vanno assaggiate quello che vi posso dire è che l'ho fatto molte volte e ho sempre fatto un figurone tra l'altro sono anche ottimi per una cena con più portate quindi se voi ad esempio di primi ne avete due anziché usare il piattone come ho fatto io ne usate uno gourmet sul fondo mettete qualche goccia di olio quello rossastro per via dei gamberoni poi con un coltello fate una spirale in modo che venga una specie di rametto con tante foglioline e se volete a parte tritate un po di pinoli e li mettete sopra a mo di parmigiano insomma vedete voi sbizzarritevi con la fantasia l'unica cosa che non dovete fare è servire questo piatto a persone allergiche che qua tra noci e crostacei se no ci fate rimane veramente secchi per le suocere invece sono perfetti in caso in descrizione trovate sia il riepilogo degli ingredienti che il riassunto del procedimento concludo anticipandovi che l'argomento del prossimo video sarà un vino in particolare oggi infatti ho bevuto un est 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 un vino che oltre che buono ha anche una storia fantastica è una leggenda più che altro su uno dei poracci più della storia poi poi vedrete dai su pure per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video un saluto ciao